Parliamo di questo premio nazionale delle arti, un'eccellenza musicale. Un'eccellenza musicale, forse e non forse, sicuramente la competizione più importante che riguarda il sistema AFAM. Chiaramente è una competizione che non riguarda solo la musica ma tutte le arti in generale. Noi ormai è la terza volta che ospitiamo questo premio, gli anni scorsi abbiamo ospitato il premio a Bada con la sezione pop rock, poi fisarmonica e finalmente sono riuscito ad avere qua la sezione dei legni, visto che io sono fagottista. Quindi ci tenevo particolarmente ad ospitare questa prestigiosa manifestazione, soprattutto perché il nostro conservatorio vanta una tradizione fantastica nei legni e oltretutto ho voluto dare un'impronta molto internazionale alla manifestazione, invitando una giuria di eccellenza, posso dire veramente di eccellenza perché il presidente è il maestro Gustavo Nunez che attualmente posso tranquillamente dire che è uno dei più grandi fagottisti del mondo, è il primo fagotto dell'orchestra del concerto Gebau di Amsterdam, così come il maestro Lillo Palermo è il primo clarinetto della stessa orchestra, è il flautista Salvo Vella, è il primo flauto del teatro di Catania. È un'importante opportunità per gli studenti, per i musicisti che si cimentano in questo concorso. Certamente, per i ragazzi è una grandissima opportunità quella di confrontarsi con le eccellenze dei conservatori italiani. Abbiamo avuto tantissime iscrizioni e purtroppo abbiamo dovuto anche eliminare tanti bravi strumentisti, ma visti i tempi non potevamo che fare così, abbiamo preso soltanto sette finalisti per ogni sezione, sono già tanti e devo dire che sono veramente bravi. Una piccola considerazione, ieri sera si è conclusa la finale della sezione Obue, la vincitrice è una ragazzina di 14 anni e mezzo del Conservatorio di Trento, è veramente una ragazzina spettacolare che dà lustro alla manifestazione. Mi piacerebbe anche invitare tutti a partecipare domenica sera alle 20, c'è il concerto finale della manifestazione con la premiazione. Speriamo nel prossimo anno di ospitare qualche altra sezione, l'idea c'è. Speriamo nel prossimo anno.